ciao a tutti oggi prepareremo il pane nan senza lievito è un tipico pane indiano il tempo di preparazione della ricetta di circa un'ora gli ingredienti sono farina di tipo doppio zero yogurt greco un pizzico di bicarbonato e il sale diamo il via alla ricetta mettiamo all'interno del boccale la farina il sale bicarbonato e lo yogurt chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo impastare per quattro minuti a spiga l'impasto è pronto lasciamolo riposare all'interno del boccale per 30 minuti trascorsa mezz'ora preriscaldiamo il forno a 200 gradi e andiamo a formare il nostro pane nan prendiamo l'impasto posizioniamo su un piano di lavoro infariniamo leggermente o impattiamolo bene adesso andiamo a dividerlo in piccole palline circa 6 a questo punto andiamo a lisciare un po l'impasto facendo delle palline lisce a questo punto stendiamoli con il mattarello una volta stessi posizionati su una teglia rivestita con carta da forno a questo punto cuociamo l'inforno preriscaldato statico a 200 gradi per 10-15 minuti il pane nan è pronto lasciamolo intiepitire prima di servire pane nan senza lievito può essere utilizzato come sostituto del pane oppure aperto e farcito grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti